Il futuro ha un cuore antico, un cuore che batte da 30 anni a Teramo e batte a sostegno dei più deboli e della bellezza. Parliamo della Fondazione Tercas, che nel trentennale della sua storia ricorda di aver contribuito alla realizzazione di oltre 3.000 progetti nei settori del volontariato, ricerca scientifica, sanità, arte, cultura, musica e teatro, erogando oltre 80 milioni di euro. Dal punto di vista sociale ricordiamo per esempio che l'hospice che ha accolto numerosi dei nostri malati è stato ristrutturato proprio grazie alla Fondazione Tercas e gli interventi sulle case di riposo. Come dimenticare le opere liriche che sono state ospitate presso il nostro teatro, tutto quel movimento culturale che si è verificato e tutte quelle manifestazioni che in questi giorni festeggiano con noi 30 anni come Maggio Feste, ma anche possiamo parlare di terremopoesia, possiamo parlare della Riccitelli che ci accompagna sempre, a Cezze Spettacolo, diciamo una progettazione comune e soprattutto un rapporto anche con tutto il territorio provinciale. E anche tanto sostegno sociale. Moltissimo sostegno sociale, soprattutto abbiamo creato una rete e mi piace ricordarlo questo, perché siamo riusciti a creare collaborazione tra coloro che operano nel settore del sociale. Oggi abbiamo una rete di associazioni che vanno dalle menze dei poveri all'assistenza alle donne vittime di violenza, ai minori, Casa Madrester, pensiamo che è da sempre da noi sostenuta, che riesce a parlare, a dialogare e a sostenersi. La giornata celebrativa dei 30 anni della Fondazione Tercas è stata l'occasione per ricordare il compianto avvocato Mario Nuzzo, professore di diritto civile che ha guidato l'ente per quasi 20 anni ed è rimasto presidente onorario fino alla sua morte. Nel suo nome sono state istituite quattro borse di studio agli studenti del primo anno di Scienze della Comunicazione ed Economia dell'Università di Teramo. Presente alla cerimonia di consegna, la moglie, la signora Maria Pia Caruso Nuzzo. Il professor Nuzzo ha vissuto qui a Teramo gran parte della sua vita professionale, sia accademica che nel settore delle fondazioni. è stato per la maggior parte di questi 30 anni della fondazione che oggi celebriamo e ha dedicato quindi tanto impegno ma anche tanto amore e passione per la città di Teramo e per il suo territorio. Chica della giornata? La presentazione di un gioco in scatola dedicato a Palazzo Melatino, realizzato con l'azienda Lishani Giochi, che contribuirà a divulgare la conoscenza del patrimonio culturale della città di Teramo.